A inizio dicembre gli agenti della divisione Passa arrestarono un cittadino italiano di 21 anni residente nel Canavese che deteneva illegalmente materiale esplodente pirotecnico. I poliziotti trovarono una sua abitazione all'interno di un armadio 145 bombe carta di fartura artigianale, non etichettate, alcune delle quali di elevata potenza e micidiali, viste le dimensioni e la quantità di materiale esplodente contenuto in ciascuno di esse. Nel corso della perquisizione furono rinvenuti altri 40 artifici pirotecnici professionali, uno spettacolo pirotecnico, un sacchetto contenente 10 kg di nitrato di ammonio. Le successive attività di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vrea, hanno portato all'individuazione del fornitore, un pirotecnico italiano di 56 anni residente in Campania, arrestato nella giornata di sabato dagli agenti. Resosi responsabile di detenzione di esplosivo. Per i 56enne sono stati poi disposti domiciliari, nel corso della perquisizione sono stati sequestrati oltre un migliaio di pezzi esplodenti.